Ciao e buono ragazzi, voi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Predizioni Valencia e Juventus Partite che si gioca da domani Allo stato del Valencia in Champions League Domani si gioca alla Champions League finalmente contro il Valencia Uno facile facile perché il Valencia, diamocela chiara, la Juventus con Cristiano Ronaldo e Di Bala Manzo, che è ben bella, è forte, è fortissimo, è più forte il Valencia Secondo me domani facciamo così Secondo me abbiamo una buona scelta di vincere Speriamo che non perdiamo come abbiamo fatto contro il Sevilla tre anni fa Siamo una Juventus cambiata E speriamo di vincere Comunque io vado per 3-0 Juve Penso che segni Ronaldo, Di Bala e Manzucic Comunque scrivete qua giù le vostre predizioni Vi posso credere in agosto i tifosi juventini Se è andata la partita, se è andata a vedere la Juventus Per favore, una cosa Per favore, non buate i buonucci Perché è andata la Juventus? Invece di essere contenti che è andata la Juventus? No Ma comunque domani vinceremo Già lo so che vinceremo Perché il Valencia è una squadra di pippe È una squadra di pippe Il Valencia non so quante squadre ha vinto Ma pochissime Scrivete qua giù le vostre predizioni Dobbiamo vincere la partita Vado per 3-0 Spero che vigniamo 3-0 Cosa molto probabile che faremo Ma secondo me vinceremo 3-0 Comunque scrivete qua giù le vostre predizioni Ciao, forza Juve Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao